Il mio primo viaggio della vita lo feci che ero ancora un ragazzo, al Pammu da Amsterdam, estinetti a Silom. Tu mi acconti con grande cordialità e dopo qualche giorno il governatore mi invitò ad andare a caccia con lui. Non ero abituato al crimatorrido dell'isola e dopo un po' persi di vista i miei ospite, avastavo a fatica quando alle mie spalle metti un ruggito. Mi voltai e vidi un leone a avanzare verso di me, provai a fuggire, ma fatti pochi passi mi trovai di fronte un nuovo e inaspettato pericolo. Dietro di me è un leone, davanti un coccodrillo, entrambi con le foglie spalancate, mi buttai a terra a vidi che, nell'apertarti contro di me, il leone era finito nella gola del coccodrillo soffocandolo e un solo colpo avevo fatto fuori due peribili temici. Il governatore di Silom seppe nella mia straordinaria avventura quando a prendere gli animali, con la pelle del leone e di confezionare delle belle burte per il tabacco e ordinò di impastavare l'enorme coccodrillo.